Ecco Coach Presta ancora per parlare di futuro, ma questa salvezza può essere un punto di partenza importante per questa società, per questa squadra? Deve essere un punto di partenza importante perché quest'anno abbiamo costruito veramente qualcosa di importante e su questo bisogna continuare a costruire. La volontà c'è, l'ambiente e la società è molto motivata e carica, quindi siamo tutti convinti che questo deve essere il nostro punto di partenza.